Questa mia azienda non sarebbe pronta com'è a espandersi verso nuovi mercati, verso l'est, verso l'Europa liberata dal comunismo, se non avesse, oltre al prodotto, dei valori. Lunga vita alla Leda! Per stare nella serie A del capitalismo bisogna giocare a tre punte con il trivente. Un giornale, una squadra di calcio e una banca. Mi serve che la porto sulla linea dolciuta. E quando mi serve? Ieri. Ragione Arbotta, buongiorno. Da oggi lavorerò con te. Non voglio nessuno, non mi serve nessuno. Mettila ne ho la prova. Ma dove cazzo è sta banca? È questa, la banca. Questa sofferenza è momentanea. Leda è un gioiellino. Vende una parte delle tue quote. Ma io non voglio vendere. Allora non venda. Così ci trascinerà a fondo. Forse il modo di salire lo trova sempre. Allora, com'è la Leda? I soldi non ci sono in destino. Non ci sono più. Allora noi li troviamo più rupiano, facciamo una rapina. Inventiamoceli. Entriamo in borsa. Ci facciamo sovrastimare il prezzo delle nostre azioni. Se lei avesse un milione di euro, chiederebbe un prestito per comprare una macchina. Ma dov'è che insegnano questi indovinelli? Alla Bocconi? Io non rubo la mia società. Ma che c'entri tu? Io sono il capo. Fate sparire tutto. Presidente. Fate sparire tutte le carte.